Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Rikudo, buonasera a tutti, sono mezzanotte e meno un quarto Allora, ho avuto un problema Quindi Comunque già ve lo dissi riguardo dello speciale che Non Non poteva uscire perché non vi prometto niente Se tutto va bene Domani, non so a che ora Allora, rispondo prima a questo ragazzo Rikudo, se hai Facebook mi dici come ti chiama Come si chiama Io ho, ma se ne va bene L'account di mia mamma Ma se scemo, dai Il link del No Il Cosa Come si chiama L'account di mamma Ma se scemo, dai, no Chiama io Senza, scusami, eh L'italiano, perché è un'opzione Che poi si scrive O-O-H Si scrive H-O E poi no, non te lo do a Facebook Mi dispiace Se vuoi, me lo dici qua, se vuoi qualcosa Ma io non è sempre Facebook non ho da nessuno Anche per motivi privacy Non conosco nessuno D'altra parte Meglio resta Meglio stare protetti Per la privacy Che darei papi dati a tutti È sbagliatissimo Anche se si tratta di un parente o di qualunque altro Comunque a questa ragazza Io ho commentato il video Questo qua Mi pare che ho problemi di linea Con No No Infatti ho problemi di linea Attivare le notifiche Ma quando vai a YouTube Sui canali Vanno a Genio Mi fa caricare Mi fa attivare la campanella A questo canale Gli ho lasciato un like Ti saluto Kingfrost Non so Dovrei Fare più 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 di un commento Ma Il problema Dove sta Che Che quando Sono stancro Non è che mi metto a fare riflessi Un e quant'altro Perché chiunque lo farebbe Oltretutto ad essere stanchi Quindi Poi si vedrà Che ci dici Oh Idiota Che poi presto 4 iscritti Tu affanculo 456 Peccato Comunque nel mio sponsor Già ve l'ho detto E cosa faccio Ah beh Per caso me lo ridico Faccio Un poco di iscritto I ricambi Un poco Passo per i vostri video Mi riguardo Il video che Mi facciano di più Sto più tempo Li commentiamo insieme Non è perché voglio offendere qualcuno Giusto così E poi Perché E poi lo speciale ovviamente E poi vediamo Like commenti Faccio un commento più lungo Semplicemente like Dipende come sto Oppure se ho tempo Ma domani non vi assicuro nulla Vabbè ragazzi Detto questo Io do qua Buonanotte a tutti Spero che vi piaccia Lasciate un like Commentate Condividete E noi ci vediamo Il prossimo video domani Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti